Perché c'è ancora resistenza? Tutti devono capire che sono io il signore di Grayskull e lo sai Evilly, per queste cose io mi affido a te lo sai, vero? Il popolo aspetta Imen sono sicuri che tornerà per guidarli se vuoi conquistare veramente il potere Imen deve essere distrutto Imen? Uccidendo mi farei un martire è un santo no, lo devo mettere in ginocchio